Amici di Arendt, io sono Leonardo Zull e vi porto in campo al Pineda per il ritorno dei quarti di finale del torneo calcetto. Si sono affrontati il Red Devils e il PSV, all'andata hanno pareggiato 4-4. Scopriamo il risultato finale. Il Red Devils sfiorano il vantaggio con Fiore, ma il numero 10 non trova il bersaglio per pochissimo. Il PSV trova un gol bellissimo con questo tiro dalla distanza, un sinistro imparabile, forte teso, impossibile da parare. Raya colpisce dalla distanza e approfitta della porta sguarnita. Gran bel goal per il Red Devils. Nella seconda frazione Fiore imbuca in angolo con il mancino potente. Il Red Devils dimostra di esserci e di poter agguantare la semifinale, ma dopo la rete di Fiore si accende il PSV che trova un'altra gran rete con questo tiro da centrocampo. Palla sotto al 7. Mazzeo va in profondità alla ricerca di Montaperto che taglia le spalle della difesa. Tocco che inganna il portiere. Un'altra rete per il PSV. Il PSV prende il largo e il Red Devils sono in bambole e regalano troppe occasioni di gol agli avversari. Qui un'altra rete e successivamente Montaperto ha tutto il tempo per servire Mazzeo che a porta vuota colpisce e non sbaglia. Mazzeo insiste e trova anche la tripletta personale. Tu per tu con il portiere. Scavetto sotto porta e nuova marcatura per il PSV che dilaga il Pineta e ipoteca il passaggio del turno. Altri errori in fase di impostazione tra le fila del Red Devils. Altro gol per il PSV. Ancora Montaperto nelle vesti di rifinitore. Bello l'assist per il compagno che deve solo spingere in rete. Il match termina con quest'altra marcatura. Un errore dell'estremo difensore del Red Devils. Tutto troppo facile per il PSV che conquista la semifinale e vince 8 a 2 il ritorno dei quarti di finale.